Buon pomeriggio a tutti. Vi ricordate l'altro ieri vi abbiamo dato una bella notizia? 16.000 posti in più sui concorsi per i nostri precari ed in più un miliardo e mezzo circa di finanziamenti per la scuola. Oggi ci tenevo a darvi un'altra bella notizia. Vi ricordate quando avevo presentato un'interrogazione da parlamentare su quota 100 chiedendo le assunzioni dei precari? E poi da sottosegretario quanto ho lottato affinché nel decreto scuola ci fosse la norma su quota 100? Bene, adesso potremmo assumere perché la Corte dei Conti ha registrato il decreto, c'è stata l'informativa ai sindacati quindi 4.500 precari potranno essere assunti dalle graduatorie di esaurimento e dalle graduatorie dei vecchi concorsi. E' una bellissima notizia, io ne sono molto felice perché ci ho creduto sin dal primo momento. Quindi grazie a tutti e buona serata.